L'azienda Autolinea Regionale Pubblica Abruzzesi ha ripristinato il secondo autista sulla linea Martinsicuro-Giulianova-Teramo in Roma. Un risultato giunto grazie all'incontro fatto ieri in Regione Abruzzo tra l'assessore regionale dei trasporti Gian Donato Morra, i dirigenti dell'azienda dei trasporti regionali e i sindacati. L'esito dell'incontro ha salvato così sette posti di lavoro, ristabilendo così una condizione di normalità, sicurezza e qualità dei servizi. Un ripristino giunto grazie al lavoro di tutte le parti, politiche e sindacali, che hanno lavorato in sinergia per trovare una soluzione a questa problematica. C'era una situazione di tensione fra l'ARPA e i sindacati che ha creato problemi all'utenza e a quella dobbiamo guardare e loro li ho convocati lunedì mattina all'Aquila. Ho ascoltato le diverse posizioni, ho apprezzato anche la posizione del sindacato che nell'ottica dell'afficientamento aveva fatto un'offerta per dei risparmi che si possono attuare e ho bloccato tutto, nel senso che si ripristina temporaneamente tutto il servizio così come era prima, anche nell'ottica di un fatto importante che mi piace dirvi, in maniera che i cittadini non lo sanno. Entro il 26 ottobre tutte le regioni devono riorganizzare i servizi per obbligo di legge. In questo periodo non si può permettere litigate in una provincia o in un'altra. Bisogna lavorare tutti insieme, la regione, l'ARPA, le migliori competenze di tutti, comprese quelle dei sindacati, per proporre al governo la migliore ristrutturazione. Ho fatto un atto d'imperio, ho sospeso tutto perché in questo momento per la riprogrammazione c'è bisogno di continuare a dare i migliori servizi ai cittadini, ma principalmente di pace sociale. Ho visto degli eccessi che non mi sono piaciuti.